Ciao amici e benvenuti nuovamente a questo quarto video sul restauro della nostra Ferrari Mondial T. Veloceriepilogo del lavoro fatto fin qui, come sempre. Nel video precedente abbiamo visto lo smontaggio completo del gruppo distribuzione per poter effettuare la sostituzione di tutte le parti consumabili, guarnizioni, cucinetti, guide, molle arrugginite e le varie cinghie di distribuzione e servizi. Dopo il riassemblaggio del tutto sul blocco motore è stato preso il punto morto superiore e si è proceduto alla regolazione fine di alberi a cam e ruote dentate per rimettere tutto in fase. Dopodiché il rimontaggio cinghie servizi con le varie pulegge e tendicinie, subito prima della chiusura completa di cuovere e carter laterali. Ed anche il rinnovo del gruppo distribuzione è completo. Il nostro calario, ormai all'interno, dovrebbe essere infiltrato. inizialmente per andare al rinnovo del gruppo di ruote. Imposizionamente per poter andare al rinnovo del gruppo di ruote. andiamo bene va bene viene avanti un po dobbiamo venire avanti ancora un 20 cento quasi 20 centimetri siamo in condizione da qualche parte allora i supporti motore sono andati perfettamente in posizione le fasce non tirano da nessuna parte adesso andremo ad agganciare il supporto posteriore con il cric andiamo ad alzare il motore in modo da farlo arrivare alla stessa altezza metti un po' dritta da con cerco adesso è dritta? la resta è tutto, le stelle è tutto di là ok ok adesso gira tutto la resta ok vai guarda qui il muso davanti eh si 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 stiamo centrati vieni dietro un pochino dietro un po dentro dentro davanti pronti? a tre su uno due tre dai su go No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.